Io penso che un mio coetaneo e una mia coetanea dovrebbe valutare e poi scegliere l'opportunità del quarto anno a Rondine perché credo sia effettivamente l'esperienza giusta che ti permette di vedere il mondo da un'altra prospettiva, anzi da altre prospettive, non solo una ma diverse, attraverso le varie sfaccettature che il percorso offre si riesce anche a interpretare, a conoscere il mondo in maniera più profonda e ad essere più consapevoli dei passi che poi andiamo a fare giorno dopo giorno nella nostra vita in questi, quindi per essere protagonisti della nostra vita. Centinaia di studenti alla Cittadella della Pace di Rondine per l'inaugurazione di tutti i percorsi formativi. 37 le classi in partenza quest'anno in 25 scuole proprio in questi giorni, riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione tramite il protocollo di intesa firmato dal Ministro Valditara. L'impatto del metodo Rondine sulla scuola è un impatto che interviene direttamente sulla metodologia didattica e quindi sul modello relazione docente-allievo, ma anche fra docente e docente, fra allievo e allievo, quindi sia a livello di pari che a livello verticale e quindi dovrebbe sviluppare tutte quelle competenze trasversali che poi sono fondamentali per lo sviluppo successivo di quello che è il cittadino che la scuola forma, ma anche quello che è il progetto di vita. Accanto a loro i 29 studenti del quarto anno di Rondine che da poco hanno iniziato un anno di scuola nella Cittadella della Pace, oltre alla nuova generazione World House. 14 giovani appartenenti a popoli in conflitto che iniziano il loro percorso di due anni a Rondine. Per essere cittadini che sanno stare in piedi nell'epoca globale, bisogna imparare a non aver paura dei conflitti ma trasformarli in modo creativo, facendoli diventare sviluppo umano e culturale. Grazie.